Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News, benvenuti all'edizione Pavia, ecco i titoli. Musica Porti reazioni dopo l'annuncio del ministro De Micheli che ha detto no alla superstrada Vigevano Malpensa, protestano i sindaci del Sì mentre i 5 Stelle pensano a un nuovo progetto. Sta cambiando il volto del piccolo centro di Spessapò dopo la ristrutturazione del municipio. Si passa alla riqualificazione dell'antica Cascino. Spiterà una sala fuori funzionale, un museo contadino. Apriamo il telegiornale con quanto successo oggi a Casorate il primo con una lite che è degenerata. Un uomo di 39 anni ha coltellato la moglie più volte. La moglie è stata ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lui è stato prontamente arrestato dai carabinieri. Tutta la cronaca nel servizio. Ha coltellato la moglie dopo un litigio, poi è stato arrestato dai carabinieri. I militari del nucleo investigativo della compagna di Pavia stanno cercando di fare chiarezza sulle dinamiche di una lite che poteva trasformarsi in tragedia. L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì in un'abitazione di Casorate Primo. Secondo le prime informazioni raccolte dagli uomini dell'arma, si è trattato di un gesto volontario da parte di un 39enne di origine marocchina. L'uomo, dopo il litigio, ha colpito la moglie con una decina di coltellate. I vicini, sentendole urla, hanno subito chiamato i soccorsi e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casorate Primo. La vittima è stata quindi trasportata ad urgenza al pronto soccorso del policlinico San Matteo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito si trova invece in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Casorate con l'accusa di tentato omicidio. A quanto risulta, i rapporti tra i due coniugi erano tutt'altro che idilliaci. L'uomo viveva praticamente da separato in casa e in passato. Aveva già avuto dei pesanti litigi con la 39enne. Spetterà ora agli investigatori fare luce sulle motivazioni del tentato omicidio. Due locali chiusi e decine di multe combinate. Questo è il bilancio dei controlli straordinari che si sono svolti nel fine settimana da parte delle forze dell'ordine sulla Movida, coinvolto in particolare il territorio dell'Oltrepo. Controlli anti-covid da tappeto a stradella dove carabinieri e polizia locale nel weekend appena trascorso hanno disposto la chiusura di due locali e ne hanno sanzionati altri per il mancato rispetto dell'orario di esercizio, oltre a multare una decina di clienti dei bar perché non indossavano la mascherina. È il risultato del controllo straordinario scattato nelle sere di venerdì e sabato, a partire dalle 21 nella cittadina dell'Oltrepo orientale. L'operazione ha visto in campo una quindicina di pattuglie che hanno svolto controlli in tutti i locali più frequentati dai giovani nel fine settimana. Niente assembramenti e uso delle mascherine obbligatorie, come noto dalle 18 alle 6 del mattino successivo, laddove non sia possibile garantire il distanziamento, ovvero in pratica dentro e spesso anche fuori dai locali. Ne sono almeno una decina dunque gli avventori che sono stati sanzionati per il mancato uso dei DPI. Per loro una multa da 400 euro che se pagate entro 5 giorni scenderà a 280. Sanzioni e sospensione della licenza anche per i baristi che non hanno rispettato le prescrizioni per evitare nuovi contagi. Due locali sono stati chiusi per motivi diversi. In un caso non sarebbero stati rispettati gli orari di apertura nei giorni precedenti, mentre in un altro bar venerdì sera è stata riscontrata la presenza di troppe persone assembrate e il locale è stato chiuso per il pericolo immediato. L'esercizio, che ha poi riaperto nella giornata successiva, sarebbe ora in attesa di ricevere comunicazione sulla sospensione di 5 giorni della licenza. E vediamo quindi il bollettino aggiornato sull'andamento dei contagi in Regione Lombardia. Come ogni lunedì il numero dei tamponi è molto basso, vedete, non si arriva nemmeno a quota 8.000, sono 7.933. 119 i nuovi positivi di oggi, di cui 4 in provincia di Pavia, come ripetiamo sempre i dati del lunedì, sono molto particolari. I ricoverati, vedete che sono sostanzialmente invariati, perfettamente invariati il numero di ricoverati in terapia intensiva. Si aggiungono invece altre 4 persone nei reparti ordinari e oggi, purtroppo, in Regione Lombardia dobbiamo registrare altri due decessi per coronavirus. Il tema dei controlli naturalmente viene sempre più pressante nel momento in cui aumentano i contagi e da oggi è partito un potenziamento delle capacità di test del San Matteo. Vediamo come sono declinate. Dalla lunedì 28 settembre il San Matteo mette in campo più risorse per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei, sia per gli adulti che per i bambini. L'ambulatorio delle malattie infettive, aperto dal lunedì al venerdì, garantirà da questa settimana 72 tamponi al giorno. L'ambulatorio pediatrico estenderà invece l'apertura fino alla domenica. Purtroppo l'autunno e l'inverno per i pediatri è il massimo dell'attività. Noi ci aspettiamo, ovviamente, come tutti gli anni, come sempre, un grande afflusso al pronto soccorso che è continuo. Quello che posso dire è che mi fa molto piacere da pediatra che è ricominciato l'afflusso di pazienti al pronto soccorso. Dopo questo periodo buio che è stato il lockdown, dove è stato anche, oltre al fatto di essere reclusi, diciamo, ma abbiamo avuto anche molti problemi legati al fatto che alcune patologie sono arrivate in ritardo. Questo è un dato molto importante. Cioè i genitori hanno, per motivi proprio legati al lockdown, hanno ritardato l'arrivo al pronto soccorso e quindi abbiamo visto casi gravi. Questo non va bene. Il nostro pronto soccorso è un punto d'appoggio per tutte le famiglie, per tutti i pediatri di famiglia, per tutti i medici di famiglia. Noi siamo sempre aperti. Abbiamo potenziato il pronto soccorso proprio in questa occasione. Per accedere agli ambulatori è necessario rivolgersi prima al proprio medico di base o al pediatra di libera scelta, che provvederanno al rilascio dell'impegnativa o a fornire le indicazioni necessarie per la compilazione dell'autocertificazione. Proprio in pediatria è ora disponibile anche un nuovo medico che si occuperà della gestione dei tamponi Covid. Ho avuto l'autorizzazione dalla nostra direzione generale di una posizione di un medico e di questo sono molto orgoglioso. Ringrazio pubblicamente la nostra amministrazione, che è un'amministrazione straordinaria. Io devo dire veramente straordinaria, che vede dal massimo del supporto. Abbiamo avuto la possibilità di un nuovo medico, un nuovo medico strutturato che si dedicherà a questo. Quindi forniamo un qualcosa in più che forniamo a tutta la popolazione, un supporto per i nostri pediatri, per i medici di famiglia. Avremo un medico dedicato al Covid, che quindi si occuperà dei tamponi, la gestione dell'organizzazione dei tamponi, del reparto che noi abbiamo allestito, un reparto specialistico proprio per la gestione dei Covid, un reparto ovviamente che rispetta tutte le regole di asepsi, che devono essere previste per ridurre al minimo il potenziale rischio. Quindi ci siamo rinforzati. È fuori pericolo ed è stata affidata a una struttura protetta. La bambina di 14 mesi è finita in coma per aver assunto cannabis. Sul fatto sono in corso indagini da parte del Tribunale per i minori di Milano. La bambina era stata portata a pronto soccorso dai genitori residenti in Lomellina. I medici si sono subito accorti della gravità della situazione. La piccola era in coma. Le analisi hanno portato alla scoperta di sostanza stupefacente nelle urine. I genitori sarebbero dei consumatori. Fortunatamente il pronto intervento del personale sanitario ha evitato alla bambina gravi conseguenze. Votiamo pagina. Non si farà la superstrada Vigevano Malpensa. Un annuncio che è stato dato venerdì sera dal ministro delle infrastrutture Paola Andemicheli. Sono ormai due giorni che si susseguono le reazioni a questa forte presa di posizione. Dopo la raffica di interventi degli ultimi mesi si aspettava l'unica parola in grado di dare un'indicazione chiara sulla Vigevano Malpensa, quella del governo. La dichiarazione è arrivata venerdì sera per bocca del ministro delle infrastrutture Paola Andemicheli che rispondendo all'agenzia di stampa dire al termine di un evento al Politecnico di Milano ha messo la parola a fine al progetto. Non si farà, ha detto il ministro, parlando di un nuovo progetto da preparare entro l'anno. Dichiarazioni che hanno originato un vero e proprio terremoto sul territorio, a cantare vittoria innanzitutto il Movimento 5 Stelle. Il consigliere regionale Massimo De Rosa parla di una vittoria dei cittadini contro le irrealizzabili promesse del centro-destra. Da Forza Italia Ruggero Invernizi definisce inaccettabile la decisione del governo, aggiungendo che solo chi non conosce il territorio e le sue esigenze può gettare alle ortiche anni di lavoro con una tale disinvoltura. Infuriato, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, che definisce PD e Movimento 5 Stelle arroganti, presuntuosi, antidemocratici, spocchiosi e nemici del progresso e dello sviluppo dei territori, aggiungendo che i sindaci del Sì non subiranno in silenzio. Un'ulteriore controrisposta dal Movimento 5 Stelle con il consigliere regionale Verni e la consigliera comunale Baldina, che accusano la Lega di aver raccontato balle ai cittadini per vent'anni per un'opera che è il monumento all'incapacità, invitando i sindaci a lavorare per la realizzazione del nuovo progetto. Sta proseguendo invece l'iter per la realizzazione di un nuovo ponte alla Becca, intanto però si continua ad usare quello che c'è e il comitato Ponte-Becca si è fatto nuovamente sentire con un'iniziativa di sensibilizzazione in cui ha posto in evidenza alcune criticità. Traffico, ciclisti, autovelox, lavori e illuminazione sono alcuni dei punti critici del ponte della Becca, tra i comuni di Mezzanino e Linarolo, questioni che sono state messe nero su bianco dal comitato per il ponte, che, come già accaduto in passato, si è ritrovato per una piccola marcia pacifica lungo il fiume, un modo per sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che ancora affliggono questa struttura e anche riguardo ai ritardi per far partire la costruzione di quella nuova. Secondo il comitato, due sono oggi gli aspetti particolarmente critici, l'illuminazione del ponte e il passaggio dei ciclisti, particolarmente pericoloso, visti i lavori in corso e il restringimento della carreggiata. Era il secondo esperimento insieme al comune di Mezzanino, primo insieme al gruppo Le Ciaccole di Roncaro ed è stata un'esperienza molto particolare. Che cosa è successo? Che all'inizio di questa camminata siamo passati di fianco al ponte, abbiamo informato gli iscritti e poi attraverso i social, la popolazione, delle problematiche che conosciamo del ponte. Abbiamo fatto un'email, PEC, alla provincia di Pavia, dove ci sono sei punti, tra cui la viabilità e l'illuminazione, facendo osservazioni e proposte. Questa è un po' la storia di ieri e che sicuramente l'anno prossimo si ripeterà, l'appuntamento più importante in assoluto annuale che dovrebbe essere confermato per il 5 dicembre 2020. La viabilità invece cittadina di Pavia, sono previsti interventi, soprattutto è stato fatto uno stanziamento importante per sistemare l'acciottolato, non soltanto dove è rovinato ma anche dove erano stati fatti dei lavori e si erano messi dei rattoppi in bitume che avevano causato tante polemiche. Poco meno di 800.000 euro per completare i lavori di riqualificazione delle strade del capoluogo. Gli interventi portati avanti nel corso dei mesi estivi hanno lasciato infatti numerose strade di Pavia, pezzi di bitume, là dove invece dovrebbe esserci l'acciottolato. Una soluzione momentanea aveva specificato nelle scorse settimane l'assessore ai lavori pubblici, Antonio Bobbio Palavicini, a fronte delle proteste scoppiate sui social network. Il progetto esecutivo è stato approvato recentemente dal dirigente del settore ed ora potrà essere messo in campo. 770.000 euro e tre mesi di lavoro per andare a sanare un problema che non è solo di natura estetica ma anche di sicurezza stradale. Senza la necessaria manutenzione spesso i sassi vengono sollevati dalle automobili in transito e in alcuni casi letteralmente sparati creando pericoli per i pedoni e le vetrine di bar e negozi. In totale l'amministrazione del mezzabarba ha stanziato 1.200.000 euro per sistemare le strade del centro storico e il primo lotto toccherà rifacimento di acciottolato, graniti e il porfido. A differenza delle asfaltature, per cui è necessario il periodo estivo, questi interventi possono essere realizzati tutto l'anno. I lavori riguarderanno via Siro come via Maffi ma anche alcuni tratti di strada nuova e di Corso Mazzini ma sono numerose strade e piazze interessate dalla riqualificazione. Le lavorazioni non riguarderanno esclusivamente il rifacimento dell'acciottolato ma anche la sistemazione dei tratti coperti dalle lastre in porfido. Comincerà domani il processo d'appello per la morte in Ucraina del fotoreporter pavese Andi Rocchelli. Unico imputato rimane Vitali Martiev che in primo grado era stato condannato a 24 anni. Un sopralluogo in Ucraina, nei luoghi dell'attacco, dove è stato ucciso il fotoreporter pavese Andrea Rocchelli. È la richiesta fatta dall'avvocato Raffaele della Valle, legale di vita Eli Markiev, il sergente della Guardia Nazionale Ucraina, condannato in primo grado a 24 anni di carcere, proprio per la morte di Rocchelli. La richiesta era già stata bocciata in primo grado ma viene ora riproposta, visto che martedì 29 settembre inizierà il processo d'appello a carico di Markiev a Milano. Andy Rocchelli è stato ucciso il 24 maggio del 2014, vicino alla città di Slovianski in Ucraina, mentre documentava le condizioni dei civili intrappolati nel conflitto del Donbass. Durante l'attacco, a colpi di mortaio, rimase ucciso anche l'attivista e interprete Andrei Mironov, mentre il fotoreporter francese William Rogelon riuscì a salvarsi. Dopo anni di indagini ed un lungo processo, nel 2019 vita Eli Markiev. È stato condannato a 24 anni di carcere per il suo ruolo attivo nell'agguato. Secondo i giudici del Tribunale di Pavia, Markiev era il comando della milizia, che sparò dalla collina verso i tre uomini, un attacco condotto con aggiustamento progressivo del tiro per uccidere civili disarmati. I giudici pavesi nella sentenza hanno anche riconosciuto l'aggravante della crudeltà. Spetterà ora alla Corte d'Appello di Milano decidere se dare il via libera al sopralluogo chiesto dalla difesa, tra la collina Caraciune e la fabbrica di ceramica Zeus, laddove nel maggio di sei anni fa Rocchelli e Mironov furono uccisi, mentre facevano il proprio lavoro. Fine settimana di incontri a Parona con temi riguardanti l'ambiente. Il Partito Comunista ha tenuto un'assemblea pubblica per la difesa del territorio e dell'ambiente, un appuntamento che rappresenta il primo di una serie, durante il quale sono state analizzate le molte criticità che interessano il Paese. E sempre nel fine settimana il Comune ha reso noti i risultati delle rilevazioni dei cosiddetti annusatori, i volontari che segnalano la presenza di cattivi odori. è emerso che la quantità di molesti olfattive è superiore ai limiti di legge, che tre aziende, identificate quali principali responsabili, dovranno impegnarsi in un piano di riduzione che vada a ridurre gli odori nel giro di due anni. Ormai è sempre più vicino il ballottaggio per le elezioni comunali a Voghera. Stasera sentiamo la posizione di articolo 1. Ad una settimana dal ballottaggio tra Paola Garlaschegli e Nicola Fronti, articolo 1 dà la sua lettura di quanto è accaduto a Voghera in questa lunghissima campagna elettorale. È la prima considerazione alla bocciatura delle strategie messe in campo dal Partito Democratico. Non abbiamo condiviso la scelta di fare questa coalizione che ha sostenuto come candidato Nicola Fronti perché ritenevamo che fosse auspicabile riuscire a mettere insieme una coalizione anche con i 5 Stelle, quindi il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle in coalizione e che esprimessero un candidato, possibilmente anche una persona nuova che potesse dare alla città un'idea di rilancio, comunque di innovazione per l'amministrazione di Voghera. Purtroppo così non è stato. Noi abbiamo comunque lavorato affinché si raggiungesse il risultato del ballottaggio e adesso insomma ce la giochiamo al ballottaggio. Ma la partita non è finita e con un ballottaggio tutto da giocare, l'invito è di mettere insieme le forze per non consegnare la città nelle mani della destra. Se io fossi nei panni di affronti chiederei agli altri candidati a Ghezzi e a Marfi di fare un apparentamento o comunque di sostenere ovviamente Affronti stesso perché comunque è un'occasione da non perdere questo. Si riparte da zero praticamente perché il ballottaggio è una nuova partita rispetto al primo turno. È l'occasione per dare a Voghera un nuovo rilancio, comunque una nuova possibilità di cambiare passo e di affidare il comune a forze democratiche, progressiste, ambientaliste che quindi possono offrire un'offerta diversa rispetto a quella che Voghera ha avuto in tutti questi anni soprattutto non consegnare la città di Voghera alla Lega. Non solo i partiti di centro-sinistra, anche i cittadini dovranno fare la loro parte andando a votare anche al secondo turno. È questo l'invito di articolo 1. Se le forze politiche non hanno la capacità di trovare un accordo, di superare le divisioni che finora sono emerse, è evidente che facciamo un appello ai cittadini di Voghera perché innanzitutto partecipino ovviamente a questo secondo turno e al ballottaggio anche coloro che non sono andati a votare in precedenza. E io spero che, come spesso succede, i cittadini siano molto più avanti rispetto alle forze politiche e quindi rispondono positivamente e vadano a votare per Nicola Fronti. Sono entrati in cinque in un grande magazzino cinese di Via Industria a Vigevano e hanno fatto razzia di capi di abbigliamento e altra merce danneggiando i dispositivi antitaccheggio. Gli addetti del negozio li hanno notati, hanno cercato di fermarli, ma i ladri per tutta risposta hanno aggredito i commessi a calci pugni e riuscendo così a guadagnare l'uscita. Infatti è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato. Gli agenti del commissariato hanno identificato una giovane di 33 anni con numerosi precedenti che è stata denunciata per rapina e lesioni personali. Individuata anche la vettura utilizzata per la fuga. Sono in corso le indagini per risalire agli altri quattro autori della rapina. Primi verdetti per il procedimento giudiziario susseguente al crack della Maugeri. Nell'udienza preliminare infatti sono già stati accolti 12 richieste di patteggiamento. 12 patteggiamenti e 9 rinvie a giudizio. Si è conclusa così l'udienza preliminare per il crack della Fondazione Maugeri davanti al GUP del Tribunale di Pavia Pietro Balduzzi. Si tratta dell'indagine parallela a quella che ha portato alla condanna definitiva dell'ex presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni per corruzione. Umberto Maugeri, presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2012, ha risarcito 3,2 milioni di euro e ha concordato una pena a quattro anni di reclusione. Costantino Passerino, ex direttore finanziario della Fondazione, ha patteggiato invece due anni e un giorno di carcere. A Passerino sono state concesse le attenuanti e generiche prevalenti perché ha fornito la massima collaborazione alle indagini ed ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri coimputati non colpiti dalle sentenze milanesi. Hanno scelto la strada del patteggiamento anche l'ex assessore regionale Antonio Simone che dovrà scontare 5 anni in continuazione con la condanna milanese e il faccendiere Pierangelo D'Acco, due anni e otto mesi di reclusione che si aggiungono alla condanna milanese a nove anni. Altri otto imputati hanno concordato pene superiori a un anno di carcere. Nove persone dovranno invece affrontare il processo ordinario. Il filone pavese del processo trae origine dall'accoglimento nel 2016 della richiesta di concordato con riserva presentata al Tribunale di Pavia dai vertici della Maugeri per risanare un indebitamento di quasi 300 milioni di euro. Secondo la Procura, gli imputati avrebbero distratto circa 74 milioni dalle casse della Maugeri attraverso un sistema di consulenze e contratti fittizi. Ci spostiamo a Spessapò dove prosegue l'opera di riqualificazione degli edifici del centro del paese. Anche i piccoli comuni, nonostante epidemie e cronica carenza di fondi, guardano avanti con fiducia grazie ai contributi statali e regionali con cui riescono a mettere in campo interventi rimasti per anni sulla carta. Nel caso di Spessapò neanche 600 abitanti sulla sponda pavese del fiume, cui il comune si appresta a concludere i lavori al municipio completamente restaurato e più rispettoso dell'ambiente grazie ai nuovi impianti a basso consumo di energia. Il progetto costerà circa 160 mila euro. Fortunatamente insomma qualche contributo è arrivato e siamo riusciti a mettere in sicurezza intanto gli edifici di proprietà comunale con un occhio all'estetica, con un occhio ovviamente all'efficientamento energetico perché poi la destinazione d'uso, di funzione era quella. Si riesce a fare ovviamente con i contributi dello Stato e della Regione perché altrimenti diventa veramente impossibile per noi. Però fortunatamente insomma sono stati garantiti fino al 2024 almeno i 50 mila euro del governo più altri 20 mila euro da sfruttare per la messa in sicurezza delle strade, degli edifici, l'efficientamento energetico, quindi insomma un ampio ventaglio di possibilità per noi piccoli comuni. Poco più in là, nella piazzetta del paese, stanno invece per prendere il via lavori per 100 mila euro con cui da questo cascinale verrà ricavata una sala polifunzionale, un museo contadino e un negozio di prodotti agricoli a chilometri zero. Il progetto è già pronto, abbiamo pensato di sfruttare i 100 mila euro che ci sono stati dati dalla Regione, in questo caso per l'emergenza Covid quindi per il rilancio dell'economia e della cultura tra l'altro quindi abbiamo unito le due cose per ristrutturare quella che noi spesso chiamiamo la Casa Marchesi quindi questo edificio, questa cascina in via Marconi su due piani e renderla a sala polifunzionale, museo contadino con annesso negozietto di vicinato del contadino. Torniamo a Pavia per una notizia di servizio che sarà sicuramente molto utile ai giovani e infatti sono aperti i bandi per il servizio civile. È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pavia un avviso pubblico finalizzato alla selezione di 13 ragazzi che saranno impiegati nel progetto di servizio civile comunale ribattezzato Giovani al Servizio. L'avviso è stato pubblicato dal settore dei servizi sociali, politiche abitative e sanità di Palazzo Mezzabarba grazie anche alla collaborazione del terzo settore e del Consorzio Sociale Pavese. Il periodo del progetto Giovani al Servizio è compreso tra il 24 ottobre 2020 e il 23 ottobre 2021 e potranno partecipare alla selezione tutti i ragazzi e le ragazze che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto i 18 anni e non superato il trentesimo anno di età sia residenti nel Comune di Pavia sia negli 11 comuni che aderiscono al Consorzio Sociale Pavese. Il servizio è inoltre aperto agli studenti universitari fuorisede a patto che siano domiciliati all'interno del capoluogo. Sono necessari quindi alcuni requisiti. I candidati in particolare devono non aver riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali a proprio carico ed essere in possesso di un certificato di donità fisica rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento allo specifico ambito di realizzazione del progetto per cui si intende concorrere. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per mezzogiorno del 9 ottobre. Vi ricordo ancora che con il primo di ottobre si completerà il processo di rinnovamento delle frequenze della nostra emittente. Invito quindi tutti i telespettatori che ancora non l'avessero fatto a controllare se sono già sintonizzati con le nuove frequenze. È un'operazione molto semplice. Basta sintonizzarsi normalmente sul nostro canale che è e rimarrà sempre l'89. Questo è importante specificarlo. Se andando appunto sul nostro canale l'89 viene fuori la scritta Milano Pavia TV vuol dire che siete già sulle nuove frequenze e non dovrete fare nulla. Se invece sintonizzando sul nostro canale l'89 compare la scritta Tele Pavia provvisorio vuol dire che siete su una vecchia frequenza che verrà disattivata fra pochi giorni e quindi sarà necessario fare la risintonizzazione del televisore e inautomaticamente verrete ricollocati sulle nuove frequenze. E con questo è tutto. Arrivederci e buonasera. Grazie a tutti.